ciao e benvenuto su ghiera un giro attorno al mondo dell'orologeria sono pietro e oggi vi voglio parlare di questo acquisto illecito che ho fatto solo per voi per iniziare però come sempre vi chiedo il supporto con un like e vi invito a iscrivervi al canale in modo gratuito per sostenere che cosa ho al polso o un moon swatch tarocco fake attenzione questo non è un invito ad acquistare questa tipologia di orologi io l'ho fatto solo per mettere a confronto un moon swatch vero autentico con questo fake che costa circa 30 euro ce ne sono alcuni a 15 euro ce ne sono alcuni a 100 euro però io ho voluto comprarne uno che stesse un po nel mezzo su aliexpress e vi dico attenzione perché ho iniziato a vederli anche su winter a vederli su subito.it quindi ci sono persone che li vendono e li spacciano come nuovi per evitare tutto questo vi do qualche consiglio lo vediamo da vicino e vi faccio capire come evitare brutte sorprese acquistandone uno magari a 250 300 euro e vi ritrovate invece una patacca sul polso e per qualcuno il moon swatch è già una patacca quindi una doppia patacca una patacca al quadrato poi vi aspetto qui per le considerazioni finali iniziamo a vedere il modo in cui vi arriva l'orologio ovviamente un pacchetto che vi arriverà dalla cina e che non è assolutamente il corredo ufficiale del moon swatch quindi chi lo vende senza il corredo senza la scatola è già un primo alert a cui stare molto ben attenti se voi vedete il primo grosso grosso problema di questo orologio sta in quello che in fondo potrebbe addirittura essere un pregio ovvero come potete vedere in questa sezione il fondello si può rimuovere è removibile a differenza del moon swatch che invece non è così io ho scelto il mission to the moon l'abbiamo questa stampa non perfetta potete vedere delle sbavature qui sotto del quello che è il vano dove riposta la batteria e nulla di più sul resto il fondello invece possiamo rivedere quelle che sono le caratteristiche che sono riportate anche all'interno e sul fondello dei veri moon swatch qui abbiamo la la corona dove riportato il logo omega per swatch in quelle che sono due posizioni adesso come vedete fermato l'orologio lo faccio ripartire avete visto ve lo faccio rivedere di nuovo faccio a partire il cronografo fermo e a zero mentre invece la sfera dei secondi continua ad andare abbiamo la una delle maggiori differenze che si possono vedere le troviamo anche sul sul bracciale qui vediamo che sul velcro la non è leggermente non è non è perfetta come invece è nella stampa dell'omega è quasi bilanciata un po portata verso l'alto qui abbiamo un altro elemento che ancora di più ci fa capire che non si tratta del bracciale originale in velcro guardate l'h come fatta male e in generale la stampa del anche della s delle lettere sull'orologio non è ottimale quando possiamo ammirare anche qui la dicitura vediamo mission che è quasi tutto attaccato spin master forse può essere considerato ancora fatto bene ma guardate per fortuna ci si perde nei dettagli la s come è sbilanciata rispetto alla presenza di moon e di watch è attaccata troppo a watch guardate anche l'h come fatta male quindi la stampa del bracciale in velcro è davvero importante l'orologio è molto leggero così come è leggero l'originale nel momento in cui andiamo ad esaminare più da vicino l'orologio possiamo vedere che ci sono anche sul sull'avvicinarsi all'orologio sposto un attimo le sfere per ammirarlo meglio quelle stesse imprecisioni di stampa che abbiamo visto esserci sul velcro lo vediamo sulla s del moon swatch sulla scritta e anche su quello che è il quadrante sulla scritta omega per swatch che vediamo a ore 12 come possiamo vedere ad un occhio ulteriormente fine io ricordo che sul vetro plastica del moon swatch è presente la s che richiama quello che è la presenza invece dell'omega sui vetri inesaliti nel moon watch qui è assente sarebbe stata una piccolezza forse troppo complessa da realizzare qui non è presente un ulteriore aspetto da valutare da considerare nel momento in cui state per acquistare il vostro moon swatch dettaglio da da considerare faccio partire nuovamente il cronografo un'altra cosa anomala è il contatore a ore diciamo ore 2 io infatti giro guardate la corona questo non è un vero contatore ma probabilmente il calibro è mutuato da un orologio dove questo è un indicatore delle 24 ore quindi ci indica se siamo nel giorno o nella notte vedete probabilmente qui arriva a quelle che è un indicatore sulle 12 ore poi proseguendo vediamo e arriviamo alla mezzanotte quindi questo ci sta indicando le 12 ore tra l'altro riprendendo invece la stampa nel moon watch non vuol dire nulla qua infatti all'inizio quando l'ho visto non riuscivo a capire di che cosa si trattasse riponiamo vi dicevo visto che ho la possibilità di aprire il fondello ovviamente l'orologio non ha il calibro che monta il vero moon watch però vediamo un attimo insieme che cosa c'è al suo interno aperto il fondello davvero in modo molto molto agevole capite già che questo è totalmente inutile in quanto non ci mostra la batteria non è il vano per vedere la batteria ma la batteria la troviamo all'interno ricordo che il moon watch dovrebbe avere un epa g10 211 4d e che inoltre come indicato anche sul fondello che vi faccio rivedere abbiamo 4 rubini qui invece abbiamo un calibro che riporta 0 rubini quindi già qui è un ulteriore elemento chiedete di aprirvi l'orologio se ve lo aprono vuol dire che vi stanno vendendo un fake se vi dicono che è impossibile di aprire sicuramente avete un valore in più poi abbiamo quello che è il fermacale probabilmente in plastica in plasticaccia come tutto il resto dell'orologio che pesa davvero molto molto poco quindi vi ho fatto vedere un po cosa sono gli elementi da considerare state attenti guardate manco si richiude più no si chiude quindi vi ho fatto vedere gli elementi da considerare per capire se si tratta di un fake vi ricordo anche i video che ho già realizzato di video recensione sul moon watch quindi andatevi a vedere quello originale per evitare di prendervi delle brutte fregature ulteriori in modo tale da fare se volete il vostro acquisto con maggiore serenità e tranquillità eccoci spero che il video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile mi raccomando state attenti vi ho fatto vedere i dettagli da guardare le cose da richiedere al venditore per evitare di avere delle brutte sorprese l'orologio ha una qualità io che ho avuto la fortuna di avere tra le mani anche altri moon watch veri in quel caso vi posso assicurare che la qualità percepita già appena lo avete tra le mani è evidentemente diversa il problema è se invece voi acquistate in modo telematico quindi da un acquirente che non si trova vicino a voi e non permette quindi di poterlo toccare con mano perché lì allora bisogna davvero stare attenti e stare attenti con tutte le considerazioni che vi ho fatto fatevi mandare dei video fatevi fare delle fotografie molto chiare e nel caso addirittura chiedete delle macro è doveroso voi siete acquierenti diventate anche dei rompiscatole ne va solo a vostro diciamo così giovamento evitate di ricevere delle brutte sorprese io vi saluto vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me facebook instagram telegram gruppo facebook dedicato alle offerte per gli orologi vi lascio qui in fondo qualche altro contenuto qualche altro video che riguarda intanto la mia grandissima passione che è l'orologeria ciao ragazzi alla prossima ciao